Dieci gruppi e solisti, due trapanesi, gli altri provenienti da tutta Italia, selezionati su una trentina di richieste e audizioni, parteciperanno a quello che viene considerato il più grande campus musicale siciliano. Stamattina in conferenza stampa ha illustrato il programma. Ogni giorno al conservatorio si terranno laboratori musicali e workshop, la sera sul palco allestito alle spalle dell'istituto, oggi i primi due concorrenti, Roberta Prestigiacomo e Liantura, ospiti della serata, Ijalis e Flavia Mazzarella. Intanto grazie, grazie perché è veramente un grande onore essere presenti qui, è una splendida organizzazione e un'opportunità molto importante da dare ai ragazzi, che non è soltanto stage formativi, borsa di studio, ma è una possibilità di incontrarsi, di conoscersi e di imparare delle cose insieme, noi e magari anche i ragazzi perché si conoscono tra di loro e poi la presenza di grandi professionisti come Gianni Herrera. E noi diamo solo semplicemente la nostra testimonianza, non vogliamo fare altro, cose e cose insomma eclatanti, siamo due artisti indipendenti, produttori, discografici di noi stessi, quindi abbiamo quella che è oggi, la figura dell'emergente è una figura ormai, quasi tutti insomma hanno delle idee abbastanza chiare sull'autoproduzione, nel 97 non era così, quindi noi abbiamo, non dico spaccato un percorso, però sicuramente abbiamo tracciato un piccolo solpo anche noi. Abbiamo rotto le scatole. No, non volevo dire questo però. Ma siete anche nel ruolo di conduttore in questa circostanza? Sì, ci proverò, ci proverò perché io non sono una grande parlatrice, io preferisco cantare piuttosto che parlare, però siccome sono una a cui piace mettersi sempre in gioco, mi metto in gioco anche in questa situazione. E poi c'è il locali tour d'autore, che è questo format radiofonico che abbiamo ideato noi, dove daremo voce agli artisti promuovendo la loro musica. Si chiuderà con un mix di brani hip hop curato dall'artista trepanese Igor, che vuole anche essere un omaggio a Scheggia, un rapper scomparso prematuramente. Questa sera sarò io con Barile, quindi la Zoo Family, vecchia crew, un pochettino, cioè non faremo un live, ma passeremo dei pezzi con cui siamo cresciuti io, Alberto, e fino a ieri, e anche buona parte della sua discografia. Sono un DJ set, e per spiegare un pochettino 20 anni di pop a Trapani. Sulla scelta della location abbiamo ascoltato Giovanni De Santis. Parte tutto questo intanto da un assunto, che non esiste musica colta, non esistono generi musicali, esiste soltanto musica di qualità e musica che non è di qualità, quindi il laicismo musicale presiede a questa idea. L'altro punto fondamentale è quello proprio che abbiamo in luglio voluto decentrare la propria attività e non legarsi esclusivamente al centro storico, perché eravamo anche, diciamo, velatamente accusati di questo, di rimanere confinati nel nostro piccolo ortus della villa. E invece con questo Trapani Pop siamo andati oltre le frontiere sia della città fisica e del centro storico, sia della musica della quale di solito ci occupiamo. Questa è un'ottica generale, almeno nel mio indirizzo, c'è l'obiettivo di rendere l'uglio musicale quanto più aperto a tutto e a tutti, ai generi musicali, alle persone. Abbiamo già, l'intervento se ricordate è stato quello del Teatro Pardo, abbiamo fatto qui a fianco il Teatro Pardo, quindi questa attenzione che abbiamo messo a questo quartiere che non è un problema, è una grande opportunità per la città. Grazie. 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 Grazie.